SIGLA Chiara! Andiamo! Lo so che ti sei spaventata. La situazione è sotto controllo. Mamma! Perché nessuno mi dice niente? Chi è papà? La procura distrettuale lo aveva accusato di associazione a delinquere per traffico di stupefacenti. Ma che sta succedendo? Siamo nei guai. Dov'è mio papà? Ma tu non puoi capire, Chiara. Che succederà poi? Che succederà poi? Ma non tu sai. È meglio. Ma non tu sai chiama.